Orlo invisibile regolabile con il piedino G. Realizzare le impunture. Potete utilizzare l'apposito piedino G per realizzare le impunture lungo le cuciture già terminate, scegliere un punto dritto, regolare la flangia per raggiungere la giusta posizione e guidare il bordo della cucitura già realizzata lungo il bordo ed iniziare a cucire. Avrete così realizzato una serie di impunture ad una distanza precisa dalla cucitura.